Il sindaco di Massa Roberto Pucci è costretto a rispondere agli attacchi di residenti e politici piovuti nei giorni scorsi sulla viabilità di via Massavenza, strada provinciale, come ricorda il primo cittadino su cui il comune ha ben poca autonomia. Nonostante questo però il problema del traffico pesante in aumento su quell'arteria con grave disagio per i residenti massesi esiste ed è provocato da quei tir che provengono da nord e che, dopo un'ordinanza del sindaco di Carrara Angelo Zubani, sono costretti a percorrere via Massavenza anziché via Covetta per raggiungere il porto. Naturalmente il sindaco di Carrara non mi ha consultato quando a luglio ha preso questo provvedimento per migliorare la vita dei suoi cittadini, replica Pucci. Io non ne sapevo nulla, oggi gli uffici si sono fatti spedire l'ordinanza per capirne il tenore. È ovvio, continua il primo cittadino, che i camion, non potendo più passare per via Covetta, strada comunale su cui Zubani ha istituito un divieto di transito verso Sarzana, passino tutti in via Massavenza per andare al porto, via più veloce e immediata. Il sindaco di Carrara le ha dunque costretti ad un giro spaventoso che loro giustamente saltano tagliando per massa, ma questo, dice Pucci, non posso più permetterlo. Il sindaco Pucci aspetta alcuni dati e dettagli da parte della SALT e la società Autostrade per capire di quanto il traffico pesante in sei mesi si sia spostato in via Massavenza, controllando gli accessi al casello di massa dei tir. Poi chiederà un incontro con il presidente della provincia e il sindaco di Carrara per risolvere la situazione. È assurdo, conclude, che due territori confinanti non riescono a prendere decisioni insieme affinché non ci si danneggia a vicenda con provvedimenti che invece di risolvere i problemi li spostano da un comune all'altro.